Avete venduto un patrimonio mondiale dell'umanità? Vergogna! Vergogna! Ma allora state facilitando comunque questa opera? Noi altri stiamo rispettando i padri. No, stai facendo il chievo! Stai facendo il chievo! Stai facendo il chievo! Stai facendo il chievo! Voi votate anche per gli altri! Non si può cambiare! Non si può cambiare! C'è una simplicità qua, fa questa cosa! Ma c'è stato in vaternis! C'è stato in vaternis! Lei ha visto la valle! Ha visto il nostro palco! Vi assumete questa responsabilità qua? Voi oggi! Sappiatelo quello che state facendo, dalle feste! Sappiatelo, tutti quelli che hanno alzato la mano oggi! Sappiatelo cosa avete fatto! Sappiatelo! Grazie a tutti. È più! Via giù le mani! Va bene? E lei buttà ombianne solo per salvare la provincia! E poi la mettete così! Cuori fuori 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 fuori! Fuori 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 MI Giaconda, tao, 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 tao! Joe Kondo, io ti avviso, se viene le tua malzze e mi spacchi le gambe Joe Kondo ti avviso, se viene le tua malzze e mi spacchi le gambe Giocondo ti avviso, se vieni il vetro marcia mi spacchi le gambe, scendi tu, se vieni il vetro marcia mi spacchi le gambe, ti avviso Giocondo, filma tutto, filma tutto perché ti ho avvisato che se vieni il vetro marcia mi spacchi le gambe, meglio mi trovare a casa a pietre di ritorno all'umana la macchina. Puoi spiegarci anche qualcosa? Puoi spiegarci qualcosa? Sei stato più violento tu di noi? Spiega qualcosa, fatti le camera, spiega, 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 non aver paura Giocondo. Avete detto che si può venire qui e anche in barba le regole costruire su un'area parco, allora cos'è? Grazie a tutti, grazie a tutti. Quindi vai, 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 vai! Stendi tu vecchio, stendi tu Tutti con le mani si chiama disobbedienza civile, oggi disobbediamo a chi muore stretto nel territorio, oggi disobbediamo e ripristiniamo il pò di dignità, un pò di anima grande all'umanità, oggi disobbediamo per i militari del diritto, un pò di anima grande all'umanità. Ritursi! Ritursi! Questa si chiama disobbedienza civile, oggi disobbediamo a chi ha svenduto il territorio, il pò di dignità e la normalità.